Della vita di Ciccina Serpentano, porco il mio saluto, i tanti amori anche da parte del Presidente della nostra società, il signor Gianni Pasquino. Io mi sento emozionato perché qua ci ho passato due o tre anni e si può dire che sto tremando, perché qua avevo mio fratello e vivevo la vita di questa struttura. Devo ringraziare tutto il personale, paramedico, medico.